FUSIONE! Ancora? Ma stavolta? Noi siamo finiti adesso C'è anche brutta gente in giro E quel piccione mi guarda male Sono d'accordo Ma questa cosa? L'astronave di nuovo? Ma stavolta che tasso di improbabilità è arrivato? Ah non lo so guarda Certo che il post-fusione è una brutta cosa Galattici amici ma soprattutto Galattiche amiche Bentornati a questa marchetta spaziale Dove vi ricordiamo a breve La scadenza del nostro secondo Fantastico giveaway Come si fa a partecipare A questo nostro secondo giveaway Che scadrà lo ricordiamo il 30 di questo mese Quindi siamo? Che mese siamo? Aspetta Non ho visto il diario astrale Settembre mi pare no? 2018? Sì 30 settembre 2018 La scadenza ultima Entro la quale inviare il vostro video breve Quindi pochi secondi Dove ci raccontate Ciò che per voi è il modellismo Ciò che per voi rappresenta questo hobby Inoltre per partecipare cosa serve? Innanzitutto se non lo avete già fatto Iscrivetevi al nostro canale YouTube Ok? E poi? Poi dovete semplicemente mandare il video O sulla nostra pagina Facebook Tramite messaggi privati Oppure all'indirizzo email che trovate qui sotto Ovvero Guidagalattica per modellisti Ciacciolagmail.com Dove aspettiamo i vostri brevi video Anche 5-10 secondi Dove semplicemente ci dite per voi Perché è importante il modellismo Cosa rappresenta per voi Si è dimenticato però un'ulteriore modalità Quale ulteriore modalità? La neonata pagina Instagram Della Guidagalattica per modellisti E' vero? C'è una pagina Instagram Postatelo sul vostro profilo Instagram Taggandoci Nei commenti Oppo nel video stesso Insomma dove siete più comodi Quindi questa volta è un po' più laborioso per voi Ma noi per compensarvi di questa cosa Abbiamo messo ad un palio Dei premi molto più golosi Rispetto alla prima edizione Quindi non mancate Aspettiamo i vostri video Ciao Ciao Dove ce lo mandate? Non sapevo che lo facevi cadere Non sapevo Potremmo mettere Simo che lo tiene fermo però